Salve a tutti e bentornati su Stardew Valley! Nello scorso episodio abbiamo iniziato il gioco e abbiamo fatto una partenza incredibile E in questo episodio invece l'obiettivo che mi sono prefissato da raggiungere verso la fine dell'episodio sarà appunto almeno sbloccare quasi tutti i bundle E voglio andare a una buona profondità del dungeon, delle miniere. Forse arriviamo alla zona ghiacciata ci starebbe, non so quanto riusciamo a fare però Come sempre controlla la tv. Uh, è la Queen of Souls che ci potrebbe insegnare appunto delle ricette, vedete? Possiamo fare lo stir fry che non possiamo ancora fare però perché dobbiamo Upgradare la casa perché non abbiamo una cucina oggi sono tranquillissimo quindi possiamo senza problema Annaffiare tutto e andare in miniera la cosa migliore secondo me è avere questi due quando va in miniera più un'altra cosa ovviamente però non Ce l'abbiamo ancora potremmo prendere qualcosa da mangiare tipo le alghe o le spring onion le spring onion sarebbe buona da portarci a giro da mangiare Ma si da tanto ok appunto avevo visto che nello scorso episodio che il passaggio è stato liberato ma adesso se entriamo nella miniera Appunto parte l'evento qua semplicemente incontriamo lui che ci dice attento alla miniera è pieno di mostri ci sono dei piccoli a sotto Se vuoi do un oggetto faccia parte della gita di avventurieri e basta questa poi è un sacco di leggenda o zelda che c'è un vecchio che ti dà una spada in Una in una caverna quindi appunto abbiamo la spada finalmente è la spada più libera del gioco però ci dice appunto la missione per la Per la città di avventurieri la prima sarebbe questa la rich level 5 in the mines entriamo subito inizialmente non dovremmo trovare molto infatti vedi è soltanto rocce E abbiamo avuto culo abbiamo trovato subito la scala per andare sotto così stai in questo devi trovare la scala per andare più in giù e cercare di accogliere tutte le risorse che ti interessano Poi puoi trovare dei tesori puoi trovare dei nemici come lui Che in questi casi possono anche loro droppati le scale per scendere di sotto non ho ancora visto nessun minerale quindi possiamo continuare a scendere E' inutile raccogliere i pietra così perché vedete c'è il copper adesso E finalmente potremmo iniziare a fare qualcosa pure con i minerali fornaci migliorare i nostri equipaggiamenti piano piano possiamo fare tutto ok non Abbiamo ancora trattata la scala quindi dobbiamo iniziare a scavare a caso O ecco scala prendiamo Livello 5 delle miniere adesso ancora di più andiamo a livello 40 e arrivare a livello 5 che attiva questa che l'ascensore che ti permette di fare Di 5 piani 5 in piani ogni volta che rientri nella miniera perché non puoi fare dal piano 0 Fino a pieno 40 ogni volta che rientri quindi ti fanno questo metodo per passare da piano a piano Ma è ti dava un qualcosa di importante loro danno al club Wow questo dovevo tenere da parte è raro se via per un bundle anche e si scende ancora per il momento che non santo raccogliere Risorse e vendere roba per fare soldi ametista o maletti o Cosa mi ha dato un diamante mai successo in vita mia con il mio come desi un diamante Probabilmente questo quando lo diamo al museo anche se potremmo dalla museo effettivamente e ci porteremo avanti ma un diamante Vale 720 di oro che per l'inizio del gioco è tanto più avanti può diventare qualcosa e poi anche regalare al museo ma per adesso Io me lo tengo e me lo vendo vediamo arrivare al piano 10 per il momento questo che stesse qua tutti questi gemme che troviamo Possiamo pure rivenderle dopo e non a poco tra l'altro ok livello 10 infatti Leather boots è nostro primo equipaggiamento che appunto ci danno un pochino di difesa e Immunità dagli attacchi dei nemici quindi ci mettiamo giusto perché possiamo è inutile scendere ancora perché tanto siamo grandi siamo accorto di energia quindi Possiamo pure uscire e casomai andare a parlare con qualcuno o a che aspetta qua c'è lea Potremmo regalare qualcosa e spring onion oppure un fiore va bene questo è piaciuto buono il bello della spada che può andare al giro e Spaccare queste robe qua che ti bloccano il passaggio e tanto non consuma energia quindi a poterizzare quanto ti pare Allora mettiamo via le cose che ci interessano non possiamo ancora fare la fornace per il momento veniamo questi è un pesce tanto più avanti I diamanti per quanto siano rari li potremmo comunque trovare per one mining ottimo cacchio che bello 975 di oro 750 al diamante o infatti lo sapevo che sarebbe comparso prima o poi il fabbro ad ascia blueprint della fornace infatti arriva qua ci dice Io ho visto che stai scavando visto che c'è un pochino di minerali io ti posso aiutare a fare alcune cose però ti do questa blueprint della fornace così Ti puoi creare la tua stessa fornace e fare le cose da te qua c'è pure tra l'altro quello di la gilda degli avventure che ci dice Se uscidi 10 slime io sono felice e dobbiamo fare una fornace 20 di copper e 25 di stone giusto E fornace ottimo ce l'abbiamo del col non abbiamo col vabbè per momento possiamo mettere a fornace da qualche parte Vabbè la rimetto qua giusto per il momento per momento andiamo nelle miniere adesso non dobbiamo per forza scendere lì ma possiamo andare qua Un qualche pian piano cambia l'ambientazione tra l'altro adesso un po' e quelle foglie lì pian piano cambia tutto l'aspetto e fra quando so che mi potete dare Diamanti mi ammazzerò costantemente mi ha tollerate crystal madonna ma sono utilissimi loro o no loro sono tremendi Scala ottimo ecco carello di col finalmente abbiamo trovato sei di col o che questa zona ma è piena di mostri Devo ucciderli tutti per far comparire la scala se non sbaglio Uh abbiamo trovato un chewing stick Uh una dwarf scroll Oh abbiamo ucciso tutti ma possiamo finalmente entrare nella gilda degli avventuriai ok Ma che cacchio dov'è la scala che succede perché non posso scendere mi sa che sei buggato non è possibile Vabbè che cosa vi devo dire devo tornare su Cata di sfiga incredibile Eh mi sa che non riusciamo a scendere a un piano più in basso stavolta e lasciamo la miniera perché siamo per morire Che strano non mi è mai successo cosa lì Coniglio non sei scomparso nel niente ha fatto il suono di lui che entrava in una in un cespuglio ma è entrato nel niente Mettiamo via il col eccetto uno perché possiamo mettere 5 pezzi di carbon di di copper a fare E questi invece li possiamo dare via Andiamo a dormire ok livello 1 camp combat e possiamo craftare lo sturdy ring Altro 200 di gold copper bar metti questo a fare e possiamo di nuovo andare a scavare Allora prima di entrare nelle miniere questa volta Visto abbiamo la nuova quest quella di entrare nella gita degli avventurieri Entriamo nella città degli avventurieri Apre le due di pomeriggio ma stai scherzando e andiamo di nuovo le miniere ok e che cacchio iniziamo alla strada comunque una cosa mai morire nelle miniere perché prendete oggetti importantissime anche spade e roba del genere quindi a un certo punto può diventare davvero tremenda come cosa e soprattutto prendete anche un sacco di Tempo di soldi se casomai succedesse chiudete il gioco e rinistrate la giornata senza salvare è il metodo più intelligente Tra l'altro prima non l'ho fatto vedere ma sono andato a prendere una una questa una persona nel villaggio che chiedeva uccidere 6 slime Per 240 di gold ecco fatto dove parlare lui stesso va bene adesso stava posso superarla cacchio prima sera baggata non mi faceva scendere Ecco fatto ecco adesso invece abbiamo trovato subito Mi ha dato un altro diamante si Che culo due diamanti e si scende siamo al piano 15 ottimo sono le due potremmo già andare alla gita degli avventurieri Ho fatto le cose tutte super precise entriamo e vedete qua ci vende un po di roba lui ci diceva niente e qua appunto c'è da pure Le elenchi di nemici che abbiamo ucciso e cose del genere sono sbaglio un certo punti da un premio ok sono andiamo 15 Ecco fatto avevamo trattato la scala per andare giusto non sbaglio sì qua ok scendiamo che è qua giro niente purtroppo con le 7 di Sera abbiamo trovato una cosa per scendere no quasi quasi esco che abbiamo poca energia e non potremmo trovare comunque molto altro e poi potremmo pure Vendere alcune cose cosa ha giusto che c'era questa un giorno preciso dell'anno succede stava oppure se diventi amico con lui Qua c'è il vecchietto che dice ma il tipo ci smettete di guardare nelle mia spazzatura e quindi ci dice a noi e puoi buttare via Lo spiocione o cazzo è al barbone quindi barbone triste ma non abbiamo dato un regalo al Sindaco potremmo dargli un regalo altro giorno al suo compleanno cacchio dovevamo farlo il diamante potremmo comunque darlo via c'è Non ha senso regalarlo a quel tipo lì quindi possiamo vendere tutto questo Sì e cosa possiamo fare prima di andare a dormire spacchiamo un albero se spacchiamo un albero abbiamo letteralmente 5 di energia però ci va benissimo così Forse sembra di livello anche di mining no di foraging il tapper è buono questo è il combat ok non siamo saliti livello di Mining va bene o che bello il diamante da 750 oggi gli spiriti sono tristi quindi non andiamo a scavare o Giusto questo evento qualche può partire ogni tanto ci incontriamo mani che ci dice ehi abbiamo trovato questo gatto qua penso che sia Randaggio poveretto penso che tu gli piaccia quindi lo vuoi tenere ovvio lo chiameremo lo chiameremo ovviamente mister mia o e quindi ci Abbiamo un gatto adesso e non serve a niente in realtà abbiamo un gatto a face roba che ci dice se vuoi puoi costruire un pozzo Va bene già che siamo oggi portiamo un po di roba a gunther e forse so come far partire realtà è la cosa del bundle Menni è venuto in mezzo adesso devi se non sbaglio andare nel villaggio una determinata ora Sano non parte giusto per verso le 8 qualcosa non abbiamo mai fatto verso le 9 così possiamo pure iniziare a portare oggetti del bundle ok Prendiamo la roba da portare a gunther ok casualmente trovato i mixed seeds potremmo piantare già che ci siamo vediamo cosa ci esce fuori Ah infatti qua appunto c'è l'evento una dei più importanti del gioco se non il più importante perché consiste in Lewis e ci dice questo qua era il centro comunitario di pelicantown e purtroppo con il passare del tempo si è trasformato in queste condizioni qua ma non Ho modo per metterlo a posto e quindi ci fa fare un turno nell'edificio e se avessimo iniziato a comprare dal jojo mart Lui avrebbe venduto questa cosa qua e avremmo potuto iniziare a fare l'altro modo per completare i bundle ovvero soltanto con i soldi che non mi piace Sinceramente è tutto distrutto ovviamente e qua c'è il caso in cui noi vediamo questi qua e c'è il tipo Oh no lì c'è qualcosa e lui non li vede e va avanti un pochino così infatti vedete dovrei tornare più avanti esplorare questo edificio Adesso proprio adesso perché tanto ti fa uscire qua quindi andiamo subito a controllare perché qua troviamo questo che lo controlliamo e non lo sappiamo leggere Quindi diciamo ma che cazzo cosa ci serve lo vediamo stato il giorno successivo purtroppo la casa del sindaco era questa andiamo a parlare ecco fatto e infatti 240 di oro doniamo al museo ecco no il swing stick non abbiamo ancora dato ottimo diamo questo Abbiamo ricevuto un regalo e infatti adesso possiamo chiedere a lui questo che da 9 cavolfiori non mi piace quasi oggi già che Si siamo potremmo andare a controllare pure la spiaggia vedete che possiamo pure comprare qualcosa da lui tipo il coal però per 150 o loro per 400 ed ammatti quindi non comprate mai niente da lui e possiamo creare la roba perché di 2000 2005 di copper per il momento è tantissimo ecco qua Stella marina questo è un artefatto questo è un artefatto anche qua c'è lea regaliamo una spring onion perché sappiamo che gli piace Sì mi piace giusto mi se l'abbiamo trovato diamole pure questo ok oppure raccolto un altro po di legna giusto perché potevo ora vendiamo pure Questi e ho anche piantato appunto e cavolfiore mettendoli un pochino di fertilizzante. Qua c'è il gattino ciao gattino non serve a niente Potete pure accarezzarle e fare quel cuoricino a caso ora però dovrebbe arrivarci una lettera e infatti Ah questa è una lettera da nostra mamma che ci regala dei biscotti e qua c'è invece il mago che ci dice hai trovato una cosa strana che non riesci a leggere Vieni a incontrarmi in casa mia nel bosco non ti preoccupare non ti stupirò questo lo legge tra le linee non c'è scritto veramente e come C'è robin che ha perso la sua la sua ascia noi possiamo trovargliela ma c'è la casa del mago che certo di incontrarlo Adesso fatto l'evento infatti quasi presenta ci dice chi è va bene la parte più importante è che Scopre del fatto che noi abbiamo trovato una determinata cosa non siamo in grado di leggere e quindi oltre a facci vedere i suoi grandi poteri del tipo Wow posso farti vedere gli omini della foresta ci introduce al concetto dei dei giuminos che sono appunto questi omini che vivono Questi spiriti che vivono nella foresta tavola adorata abbiamo trovato nel community center e quindi se la va a controllare da solo fa così Se teletrasporta uscendo dallo schermo proprio letteralmente per poi entrare dalla porta così c'è scritto praticamente sulla cosa che i giuminos sono Fici di aiutarci soltanto se gli portiamo dei regali della valle se sei uno con la foresta sarà in grado appunto di leggere le sacre scritture Le sacre pergamene quello che è e ci dice devi essere uno con la foresta allora bevi questa pozione che è piena di roba che ho raccolto dalla foresta Non ti preoccupare non è rufis e quindi non ce la beviamo ovviamente perché la cosa più logica Vai nella casa di un tipo che sembra un mago che ti dice sono un mago non ti preoccupare bevi questa cosa qua ti permetterà di leggere sacre scritture Sopra pergamene scritte da spiriti della foresta che ci crede ovviamente ti bevi quello che sta Che che sta cuocendo questa cosa qua non l'ho mai capita è un modo malattissimo per rappresentare il fatto che diventiamo uno con la foresta Guarniamo quale un legame con la foresta cacchio che sa trova è un trip di acidi E adesso abbiamo appena guadagnato il potere di leggere appunto quelle scritture lì e tra l'altro se non sbaglio oggi ci avevamo pure dato da questi robin Quindi oggi c'è un po di cosa da fare oltre che andare in miniera perché penso avere comunque tempo di andare in miniera Se non sbaglio l'ascia di robin si trova qua a meno che non venga cambiata per ogni volta che giochi il gioco però mi sembra difficile e qua esattamente dove ci sono anche Le spring onion giusto ecco infatti qua qui dobbiamo riportarla robin purtroppo non possiamo utilizzarla vero no vedi possiamo tenerla in mano così ma non possiamo utilizzarla E già visto che adesso possiamo andare a fare i bundle passiamo pure per il community center e ci portiamo dentro tutti gli oggetti Ok siamo al community center e adesso che abbiamo potere direggere le pergamene d'oro possiamo arrivare qua e ci inizio i bundle o finalmente posso farveli vedere per bene Gli spring foraging è quello che abbiamo raccolto finora che troviamo a giro questo è uno dei primi e più semplici da fare non c'è motivo di mettere l'ordine giusto però Bando completato va così e se non sbaglio ci si fanno pure un regalo adesso vedete 30 spring seed ottimo quindi abbiamo completato questo primo bundle Uh intanto parte pure questo evento giusto che avendo finito il primo bundle sblocchiamo le altre pergamene per il momento qua non possiamo fare altro questi questi invece sono tutti basati sull'artigianato e il Il farming quindi ci mettiamo il parsnip questo possiamo completarlo con tre oggetti soltanto quindi faremo questi tre i parsnip non ce ne fregheremo e soprattutto Quello per cui abbiamo lavorato maggiormente è quello dei pesci che non ne completeremo nessuno assolutamente ne possiamo fare comunque la maggior parte Questo non sbaglio si può fare stante nottunno c'è no le sardina per il lago c'è questo questo ci manca sempre uno Purtroppo siamo sempre a corto di uno in realtà ora possiamo mettere te che ti abbiamo trovato a culo questo ci ne manca soltanto uno Ah cacchio potremmo trovarli mi sa uno di questi due sulla spiaggia presto e quelli di notte Te e te abbiamo portato tutto purtroppo avevo potuto finire tanto uno però non è un grosso problema mentre visto che adesso dobbiamo andare in miniera Qua c'è la casa di robin sì ok è felice che abbiamo riportato l'ascia e ci dà dei soldi 250 buongiorno ti regalo uno di questi giusto perché mi sei simpatico mi piacerebbe tantissimo arrivare fino al piano 20 alla profondità 20 Non so se ci riusciremo wow un po cattivo entrare così in realtà ok questo è aperto un passaggio ma dai Ma non è possibile che palle non sopporto questi piani qua abbiamo pure trovato la quest prima usciti 4 slime Oh no 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 c'è l'invasione adesso quindi ce ne andiamo perché adesso arriveranno un sacco di questi qua e non ho voglia assolutamente avere ci a che fare Quando ci sono delle rail è importantissimo perché mi sa che alla fine ci sarà un carrello pieno di coal Uh quello slime è diverso Oh ok è morto Uh cos'è questo Wood club Abbiamo trovato una nuova arma? Fa 9 e 16 è mille volte meglio di questa Vieni qua Oh bene finalmente C'è la possibilità ogni tanto che qualcuno ti troppi un'arma E cacchio stavo sperando tantissimo di trovarne una finalmente e coal Oh bello leva 11 Questo è sempre uguale come livello se non sbaglio è sempre una spirale che va verso il centro Il piano 19 Qualcente poi c'è sempre questa questa enorme quantità di crate Oh ok abbiamo trovato pure l'uscita grande Geode Oh oh Fantastico ok Piano 20 in alta chest Steel small sword Va a me è meglio della nostra penso Fa 4 8 Più 2 Mi sa che comunque è meglio la clava È super veloce Qua possiamo pescare poi più avanti Però sono già le 10 di sera quindi no Usciamo subito Poi già dovremmo andargli a farli aprire I spring seed mi sa che li pianteremo domani Posso mettere a cuocere altra roba adesso finalmente Ho trovato del coal Qua c'è il gatto che dorme Ok Penso in realtà che per questo episodio possa bastare Perché mi ero messo l'obiettivo appunto di andare a una buona profondità delle miniere E sono 20 abbiamo fatto ben 20 20 piani E abbiamo poi portato avanti i bundle Che come vedete è anche qua Perché si può anche controllare da fuori In realtà dal community center Abbiamo completato addirittura uno E tra l'altro quelli di pesce li abbiamo quasi infiniti tutti Quindi Ma quindi per questo episodio è tutto Vi vedete nel prossimo episodio Ciao a tutti Guardate che bella la maglietta con il panda nello spazio È una figata